Do il benvenuto a Giuseppe Conte, buonasera, leader del Movimento 5 Stelle, ex Presidente del Consiglio, ha sentito le parole di Giorgio Meloni, oggi sono cent'anni dalla marcia su Roma, sono sufficienti queste parole? Sicuramente sono importanti nella misura in cui c'è una presa a distanza dal regime fascista, questo è indubitabile dalle leggi razziali che sono state oggettivamente una vergogna e qui c'è poco da discutere. Ovviamente c'è anche però da considerare che c'è un partito al cui interno c'è ancora delle componenti che da un lato vi ho di nostalgia per questo passato a partire dal Vice Presidente del Senato, scusate dal Presidente del Senato, la russa che addirittura ostenta questo omaggio anche al passato e dall'altro ci sono comunque, c'è tutto un periodo, questo l'ha detto molto chiaramente scarpinato senza nulla togliere, senza confusione, però c'è tutta una storia anche più recente del nostro paese di eversione di matrice neofascista che andrebbe chiarita a una stagione stragista. Senta, le voglio far sentire le parole di Beppe Grillo che è stato intercettato quando è venuto a Roma i giorni scorsi. Sentiamo Grillo. Anche lei come Beppe Grillo spera che il governo duri a lungo? Io così cresciamo sempre più. No, non so. Adesso il governo deve partire, deve partire, c'è una legge di bilancio, è giusto che chi ha votato per Fratelli d'Italia, ha premiato questa coalizione, possa anche vedere un governo partire, un governo che si è chiamato a responsabilità per le misure che ha anticipato durante la campagna elettorale, pur nella confusione a volte delle varie posizioni tra le forze di centro-destra e dobbiamo misurarlo sui fatti. Senti, abbiamo l'inflazione che tocca quasi il 12%, non accadeva da 40 anni, il carriero della spesa costa sempre di più, la benzina sappiamo quanto costa, chissà cosa costeranno le bollette adesso che arriverà l'inverno. Giorgio Amirone si è detta contrario a uno scostamento di bilancio, dove trova le risorse per affronteggiare tutte queste emergenze? La ragione per cui ho detto che dai vari segnali che ci arrivano, sin dalla formazione del governo e anche alla luce del suo discorso, questo governo sta marcando una chiara linea di continuità con il governo scente Draghi, però vorrei metterla sull'avviso, il nuovo presidente Meloni, il governo Draghi è andato a casa perché non ha compreso la gravità della situazione economica sociale del paese e è andato a casa al di là poi delle varie concause, perché di fatto non ha dimostrato di comprendere che andavano adottate delle misure straordinarie, un piano straordinario. Se lei quindi si pone in linea di continuità, non assolutamente non c'è all'orizzonte sulla variazione di bilancio, ricordo che non ha parlato di fatto, poi ha fatto qualche precisazione, ma di fatto non ha ancora chiarito come e come vuole riscrivere le norme sugli extra profitti. Lo vogliamo ricordare che quella norma doveva portare nelle case dello Stato 9 miliardi, ha portato all'incirca 1 miliardo e 200 milioni. Presidente, perché questo? Com'è possibile che una norma scritta male impedisca? Ma perché non la riscrivono domattina? Ma guardi, io ho fatto una battuta durante la campagna elettorale, adesso la campagna elettorale è finita, però forse quella battuta rimane. Noi siamo stati finanziati dai singoli cittadini, non da gruppi imprenditoriali. Quando invece normalmente sei finanziato, sei legato a gruppi imprenditoriali, c'hai rapporti anche di continuità, poi il rischio è che quando vai a scrivere una norma scontenti qualcuno, anche qualche finanziatore. Può essere questo il caso? Lei dice che c'era dolo nella mala scrittura della norma. Lo so, dico semplicemente che dal governo dei migliori mi aspetto che sappiano scrivere una norma e adesso mi aspetto che questo governo della Meloni dimostri di saperla scrivere. I cittadini italiani hanno bisogno di risorse importanti, non vuole fare la variazione di bilancio? Bene, si assumerà la responsabilità di scrivere una norma seria perché è chiaro, è una cosa che dobbiamo dire ai cittadini, che durante l'emergenza la maggior parte dei cittadini, famiglie e imprese si impoveriscono, ma ci sono anche imprese che fanno speculazioni e si arricchiscono. Senta, in questi giorni la cosa che ha dominato i giornali, l'opinione pubblica anche devo dire, è stata quest'idea di innalzare il tetto del contante. Lei lo aveva abbassato a mille euro, Renzi lo aveva riportato a tremila, Monti a mille come lei. L'idea della Lega è di portarlo a 10 mila euro di contante che può girare per gli acquisti, Fratelli d'Italia vorrebbe forse 3-5 mila, ancora non è chiaro, ma secondo lei come primo provvedimento di un governo è corretto alzare il tetto del contante? Guardi, io sono rimasto sorpreso dal discorso programmatico che ha fatto la Presidente Meloni e l'ho detto anche in replica, perché è sembrato quasi così, che volesse delineare un progetto culturale per i decenni a venire, piuttosto che dare delle indicazioni che l'Italia si aspettava, i suoi stessi elettori si aspettavano, qualche indicazione un po' più concreta, non è che c'è da fare ovviamente il primo giorno la legge di bilancio, ma qualche indicazione la puoi dare su quelle che potranno essere le misure di sostegno a famiglie e imprese, su come affrontare ovviamente il problema del caro bolletto e del caro prezzo e l'inflazione, non c'è stato nulla di concreto e di conto invece che cosa abbiamo? La concretezza è stata che vogliono un condono fiscale come prima misura, si è parlato di innalzamento della soglia del denaro contante a 10 mila euro, tra l'altro lei l'ha motivato... Aspetti, vi faccio sentire cosa ha detto su questa cosa, sentiamo Giorgio Meloni. Ora lo dirò con chiarezza, non c'è correlazione tra intensità del limite del contante e la diffusione dell'economia sommersa. Ci sono paesi in cui il limite non c'è e l'evasione fiscale è bassissima. Non siete d'accordo? No. Sono parole di Piercarlo Padoan, ministro dell'economia del governo Renzi e del governo Gentiloni, dei governi PD. Per completezza di notizia poi Piercarlo Padoan ritrattò quella posizione dicendo che fu un errore. anche nei paesi dove non c'è tetto non c'è evasione, non è correlata la cosa. No, guardi, io lo voglio dire chiaro e forte. Ognuno interpreta il ruolo di Presidente del Consiglio come ritiene. Però non ci si può presentare in Parlamento, estrapolare la frase di un avversario politico e su quella costruire una retorica. Gli elettori e i cittadini vanno presi in giro. Se tu sei Presidente del Consiglio devi governare con fatti concreti senza fare la battuta, l'estrapolazione ad effetto. Quelle cose lì non stanno né in cielo né in terra. Prima perché non ha letto il rapporto in Banca Italia che andrebbe studiato. Secondo, quando si fanno queste comparazioni non hanno alcun significato perché dire che in Germania e in Austria c'hanno un tetto, una storia di contatti più elevata della nostra attuale e hanno un sistema di evasione fiscale in cui non c'è l'economia sommersa che c'è da noi, quindi significa che non devi fare la comparazione perché non c'entra nulla. Sono sistemi completamente diversi, abitudini di cittadini diverse, una modalità ovviamente di rapporto nel fisco completamente diversa. Quindi la concretezza qual è? Il dato certo. Se lei avesse la bontà di studiare, basterebbe leggere, non l'associazione... Ha la nomea di una che studia molto però. Ecco, però deve studiare di più. E se studiasse di più, basta leggere il rapporto dell'European House, Ambrosetti, stiamo parlando di Ambrosetti, che loro hanno fatto un calcolo. Se questa cosa della soglia a 10.000 euro passasse, la soglia del contante, noi avremmo un'incidenza del sommerso sul PIL di 1,7% di punti percentuali. Sa cosa significa? 23 miliardi di economia sommersa in più addizionali. Questi sono i dati. Non bisogna prendere... non si può venire in Parlamento a dire quelle cose. Senta, in un paese che ha 5,6 milioni di persone in povertà assoluta e il reddito di cittadinanza è riuscito a coprire il 44%, quindi neanche tutti, più di 9 milioni di persone che stanno in una situazione di povertà relativa. Sul banco degli imputati del discorso di Giorgio Meloni c'è stato il reddito di cittadinanza. Sentiamo cosa ha detto. Vogliamo mantenere, laddove possibile, migliorare il doveroso sostegno economico per i soggetti effettivamente fragili, non in condizioni di lavorare. Perché per come è stato pensato e realizzato il reddito di cittadinanza ha rappresentato una sconfitta per chi era in grado di fare la sua parte per l'Italia, oltre che per se stesso e per la sua famiglia. È stata una sconfitta il reddito di cittadinanza? Io inizio a credere che la Presidente abbia una visione completamente distorta della povertà, delle persone che sono ai margini della società, delle persone che non ce la fanno, che non arrivano addirittura a metà mese piuttosto che a fine mese. Perché ritorno anche alla soglia del contante. Lei ha giustificato quella soglia dicendo così aiutiamo anche i poveri. È una cosa ridicola perché non solo i poveri, ma famiglie normali non girano con 10 mila euro di contante in tasca o nelle valigette. E ancora qui, guardate, questa è propaganda. Questa che abbiamo ascoltato nelle aule solenni delle nostre istituzioni parlamentari è propaganda. Perché? Quando si dice che noi non vogliamo toccare il reddito di cittadinanza che va a favore di persone che sono fragili, persone che sono con disabilità e via discorrendo, ma solo per coloro che sono idoni al lavoro, significa che tu devi offrire un lavoro a queste persone. Quindi significa che tu devi avere un sistema di politica attiva del lavoro che funzioni. Ecco perché io rispondo. Prima cosa deve chiamare i presidenti delle regioni, 14 presidenti e le regioni di centro-destra e dire loro, i centri dell'impiego che sono regionali vanno rafforzati perché sono loro che devono offrire, portare e offrire... Lei ci aveva messo un miliardo sui centri per l'impiego, un terzo. Un terzo. Ma perché le regioni secondo lei non hanno utilizzato questi fondi per implementare i centri per l'impiego? C'è un boicottaggio chiaro, conclamato, pregiudiziale, ideologico contro questa riforma. E il centro-destra non l'ha mai negato, si è aggiunto anche Renzi con Italia Viva. Quindi questa azione di contrasto contro questa riforma la vuole descrivere come un fallimento. Ma questa riforma è un sistema di protezione sociale che adesso va implementato, rafforzato sul piano delle politiche attive del lavoro, attraverso i centri dell'impiego. Quindi Giorgia Meloni, se vuole fare il premio in modo serio, deve chiamarsi prima i suoi presidenti delle regioni e convincerli a utilizzare i soldi già stanziati che si stanno perdendo e dopo lavorare con noi, se si vuole confrontare con noi, sul come rafforzare le politiche attive del lavoro. Ecco, l'avvocato del diavolo direbbe che nel 2018 Di Maio disse che il reddito di cittadinanza non era una misura assistenzialistica, ma era una misura sulle politiche attive del lavoro. Sulle politiche attive del lavoro non ha funzionato, anche per i motivi che lei ha detto. Giorgia Meloni dice che il lavoro è la risposta alla povertà e poi aggiunge che il lavoro non si crea per decreto. Sulle politiche attive ha fallito però, al di là dei centri per l'impiego, i navigator hanno fallito. Ma guardi, i navigator non erano certo la soluzione, quindi se è stata presentata male questo è stato un errore, perché non è certo con un numero di navigator, i cosiddetti navigator, che risolvi il problema. I navigator erano a sostegno, perché? Qual è il tema? Spieghiamolo bene i cittadini, perché se no parliamo soltanto di cose astratte e di propaganda. Oggi abbiamo un'agenzia nazionale del lavoro che si chiama Ampal, questa è centrale, poi abbiamo i centri dell'impiego e abbiamo le agenzie private interlinali che forniscono lavoro. Bisogna mettere in collegamento, non abbiamo neppure una piattaforma, non abbiamo ereditato una piattaforma informatica su cui far confluire i dati. Io ci ho lavorato, prima che Renzi intervenisse con quella genialata a creare la crisi del Conte 2, la stavamo costruendo. Oggi, se vuoi una soluzione concreta, devi completare innanzitutto la piattaforma informatica. Tutti i centri che hanno un ruolo per le politiche attive devono poter dialogare. Dopodiché si fa l'offerta ai singoli e si registra l'offerta. E propaganda, anche quando in TV si chiama qualche commerciante, qualche ristoratore, che fa finta di chiamare il percettore di reddito. Lo vuoi il lavoro? Non funziona così, non è con una telefonata. Va registrata l'offerta, va avvagliata che offerta è, che contratto è, che cosa effettivamente si mette sul tavolo, non per telefono, che si promettono 2-3 mila euro, su quell'offerta si registra tutto e poi si vede se c'è il rifiuto. Il rifiuto non è accettabile se rientra nei parametri previsti. Senta, ci sono state molte polemiche naturalmente sui diritti civili. Il centrodestra torna al governo e si ritorna a parlare di diritto all'aborto e cose di questo tipo. Giorgia Meloni, sempre al Senato. Un governo di centrodestra non limiterà mai le libertà esistenti di cittadini e imprese. Vedremo alla prova dei fatti, anche su diritti civili e aborto, chi mentiva e chi diceva la verità in campagna elettorale su quali fossero le nostre reali intenzioni. Giorgia Meloni da Enrico Mentano ha detto che non abolirò e non toccherò la 194. Voglio solo incrementare delle possibilità per quelle donne che invece di abortire avranno un'opportunità in più. Quindi c'è stato tanto rumore per nulla sui diritti civili. Ma guarda, intanto anche qui si tratta sempre di avvertire, da un lato, la neoministra della famiglia che la pensa un po' diversamente, mi pare di capire, rispetto a questo riassunto. E anche il Presidente della Camera, il neoministra della famiglia, uno. Due poi dovrebbe anche chiamare alcuni presidenti, penso al Presidente delle Marche, della Regione Marche, che di fatto cosa succede? Che al di là delle declamazioni di principio rischiano di rendere oggi nelle Marche più difficoltoso per le donne che vogliono esercitare l'interruzione della gravidanza questo obiettivo. Quindi si tratta, delle volte la legge non viene toccata, ma si rende più difficoltoso il raggiungimento di quella che è una facoltà concessa alla donna. Secondo lei ci sarà un ritorno al passato sul piano dei diritti civili col centro-destra che dovrebbe stare al governo 50? Non lo permetteremo, perché non permetteremo arretramenti di segno reazionario per quanto riguarda le battaglie civili, per quanto riguarda ovviamente questa restaurazione identitaria che è stata un po' prefigurata nel suo intervento. A me non è sfuggito i riferimenti culturali e alcuni segni che delineano anticipare una prospettiva reazionaria. Quali? Se loro vogliono perseguire una politica conservatrice, moderna, che rispetti veramente l'integrazione europea e le battaglie sui diritti civili e non mette in discussione i diritti civili, benissimo, ci misureremo sulle misure concrete per vedere se saranno adeguati o meno. Se invece intraprendo una via reazionaria, il contrasto sarà irriducibile e saremo irremovibili. Questione guerra in Ucraina, invasione della Russia. Sentiamo cosa ha detto Giorgia Meloni. Se uno dei due vince e l'altro perde, non c'è bisogno di nessun negoziato. A meno che non mi si voglia dire che la pace si ottiene con la resa dell'Ucraina. E questo non me lo potete chiedere. La pace si ottiene sostenendo l'Ucraina per consentire all'Ucraina di difendersi. È l'unica possibilità che abbiamo che le parti in campo possano decidere di negoziare. Inviare armi all'Ucraina affinché l'Ucraina possa difendersi e rimanere sul tavolo per trattare, altrimenti perderebbe. Ma guardi, detto così sembra una banalità, ma in realtà le parti quando decideranno di negoziare? Quanto potrà durare questa guerra? Per quanto tempo dovremo armare ancora l'Ucraina? Che mi sembra che in questo momento non sia più in quella posizione asimmetrica sul piano militare dell'inizio. La verità è che il negoziato di pace va fatto adesso, subito, è urgente. Perché non ci possiamo più consentire questa escalation militare, questo rischio nucleare, non ci possiamo più consentire una recessione economica. Questa strategia che vuole inseguire una vittoria militare sulla Russia è una strategia che sin qui non ci ha portato a una soluzione. Allontana soltanto il negoziato di pace. Allora, tutti parlano di negoziato di pace, poi gli atti non ci sono. Lei è stato Presidente del Consiglio. Se lei oggi fosse Presidente del Consiglio, cosa farebbe diverso da quello che dice Giorgio Meloni? O da quello che ha fatto Mario Draghi? Io la prima cosa che avrei fatto è che avrei chiamato tutti i leader europei perché innanzitutto all'interno dell'Unione Europea avrei spinto tutti a interrogarsi sulla efficacia di questa strategia. Ancora più adesso sono passati sette mesi di guerra, di conflitto e quindi abbiamo una prospettiva di escalation. Avrei detto, li avrei convinti che l'Unione Europea deve recitare un ruolo in questa vicenda che non può essere soltanto una strategia decisa all'inizio tra Washington e Londra e comunicata anche all'Europa. Non può essere quella che deve andare sino alla fine, non si sa fino a quando, che dobbiamo perseguire. Se lei fosse Presidente del Consiglio non invererebbe armi di nuovo? Guardi, se fossi stato Presidente del Consiglio... Però è un po' antipatico questo perché è chiaro... No, lei ha fatto Presidente del Consiglio. Non lo sono, chiariamo ai spettatori. Lei è un leader dell'opposizione. Non c'è nessuna arroganza, nessuna ambizione. In questo momento non sono Presidente del Consiglio. Però devo dire la verità che avrei evitato di arrivare a sette mesi senza che sul tavolo ci sia un negoziato di pace. Mi sarei battuto con tutte le mie forze. Non avrei permesso che dopo sette mesi sul tavolo ci fosse solo... Poi non ci sarei riuscito, non c'è nessuna arroganza in quello che dico. Ma certo mi sarei battuto con tutte le mie forze all'interno dell'Unione Europea e con gli alleati dell'alleanza atlantica. Quindi non per conto mio svegliandomi un giorno così in modo isolato. Perché sul tavolo dopo sette mesi ci fosse un negoziato di pace in cui fossero stati coinvolti anche gli altri attori internazionali che contano. Ci sarà una manifestazione per la pace il 5 di novembre. Anzi, ce ne sono diverse. Non si mette d'accordo neanche sulle manifestazioni per la pace. Guardi, io dico che le manifestazioni per la pace quanto più sono, meglio è. Questa del 5 è una manifestazione per la pace il cui appello non l'ho sottoscritto io. Io ho aderito a un appello. Però perché non ho voluto, come dire, marchiare politicamente questa iniziativa del 5 novembre. Quindi lo dico a tutti coloro che ci seguono. Questa è un'iniziativa aperta a tutti, anche a coloro che hanno sensibilità poi politiche diverse. Anche a cittadini che hanno votato forse del centro-destra. Tutti coloro che vogliono una svolta verso il negoziato di pace vogliono che tacciano le armi perché ritengono che su questa strada non ci sia una via d'uscita e una soluzione che assicuri pace e sicurezza internazionali. Enrico Letta invoca un'unità delle opposizioni per contrastare questo governo di centro-destra. Ma lei risponde picche da quello che ho capito. Guardi, non è il tempo per quel che è stato di riunioni di vertice che decidono a tavolino bene. Adesso saremo uniti. Mi sembra che il PD abbia un percorso interno adesso congressuale con tappe già annunciate. Facciano il loro percorso. Noi abbiamo un nostro percorso e io dico chi vorrà fare reale opposizione opposizione solida, vera, concreta lo dovrà dimostrare in Parlamento. Noi le battaglie ci siamo già perché abbiamo una campagna elettorale fatta in modo chiaro che è alternativo alla politica che vuole perseguire il centro-destra. Quindi noi con la nostra intransigenza con la nostra implacabilità ci saremo all'opposizione. Se gli altri la pensano in questi termini alternativa alla destra lo dimostreranno. Vorrà dire che ce li ritroveremo nei fatti non a tavolino al nostro fianco. Datti Euromedia Research di Alessandro Ghislieri Movimento 5 Stelle 17,3% PD 17% C'è stato il sorpasso stando a questi sondaggi lei vuole essere leader del fronte progressista? Io voglio essere leader del Movimento 5 Stelle voglio assicurare un'azione politica forte voglio che le nostre battaglie i nostri obiettivi politici preannunciati chiaramente alla comunità nazionale dei cittadini vengano perseguiti con una determinazione senza sconti senza mai distrarci. Poi in questa prospettiva se si allarga il nostro consenso sono ben contento io me lo auguro ovviamente però le dico molto francamente questo risultato che lei ha sintetizzato questo risultato di ieri non è che mi ha portato ieri sera a brindare come non neanche a piangere no, non pianto assolutamente che se dovessi piangere questo risultato dovrei cambiare mestiere per un'altra cosa però dico come non mi sono mai abbattuto e non ci siamo abbattuti quando ci davano all'8 al 7 al 6% si ricorda? quando iniziò la campagna elettorale oggi noi non ci saltiamo a noi interessano i risultati gli obiettivi politici il percorso politico che stiamo facendo senta non sfugge nessuno che nel Lazio a febbraio ci saranno le elezioni per la regione perché Zingaretti si è dimesso sintetico andrete separati al PD? guardi sicuramente i tavoli che sono stati fatti in passato sono stati superati da tutti gli eventi ovviamente da questa campagna elettorale travolgente che ha lasciato strasci che ne prendiamo atto per quanto riguarda adesso c'è una riflessione interna in queste ore al Movimento 5 Stelle in questi giorni faremo una sintesi ma di sicuro vogliamo offrire alla comunità regionale del Lazio ai cittadini elettori del Lazio una proposta politica seria competitiva alternativa al centro-destra e alla destra poi se su questo voglio dire si vedrà il PD cosa vuole fare ci hanno i loro percorsi e vedremo che margini ci sono ma sicuramente anche qui non è più possibile pensare di stare al tavolo e far finta che non sia successo nulla il presidente Mattarella ha detto che la pandemia è ridimensionata ma non è sconfitta il ministro della salute Orazio Schillaci notizia di oggi reintegro dei medici sospesi che non si erano fatti il vaccino stop al bollettino quotidiano faremo un bollettino settimanale Orazio Schillaci è stato nominato nel 2020 da Roberto Speranza all'istituto superiore di sanità giusti o sbagliati questi provvedimenti? Guardi sui singoli provvedimenti non vorrei entrare perché in questo momento io ho sempre detto una cosa quando ero presidente del consiglio adeguatezza e proporzionalità delle misure quindi non ne ho fatto mai una battaglia ideologica astratta ho sempre detto seguiamo indaghiamo l'evoluzione della curva di contagio lavoriamo con gli esperti e le misure devono essere adeguate e proporzionali a quella misura quindi in questo momento le confesso che non ho consultato esperti non ho verificato diciamo qual è l'indice di pericolosità della situazione attuale epidemica e pandemica se il ministro Schillaci ha adottato queste misure confido che l'abbia fatto con grande coscienza e responsabilità se sono misure se ha valutato che la situazione attuale queste misure attuali fossero sovradimensionate ha fatto bene però si assume tutta la responsabilità e questo deve essere il suo compito le piace far politica politica nel senso campagne elettorali non fare l'entrato da presidente del consiglio le piace fare politica guardi è una prospettiva ovviamente che in passato non avrei neppure accarezzato mi si è presentata l'opportunità dopo tanti anni di studi di passione civile ovviamente perché ho seguito la politica sempre con grande attenzione dopo diverse esperienze professionali e ovviamente con grande senso di responsabilità ho affrontato la prova del presidente del consiglio dei ministri adesso da leader politico ho l'opportunità di continuare un impegno politico un impegno politico che mi responsabilizza molto perché anche nel ruolo di forza di opposizione sei grandemente responsabile perché non è che si può dire solo no assolutamente dobbiamo noi abbiamo delle misure concrete da proporre anche per la legge di bilancio a questo governo e su quelle vorremmo che ci fosse un confronto vero quindi la risposta è sì le piace mi piace sì un'ultima battuta velocissima che effetto fa vedere Di Maio che è addirittura fuori da impegno civico fuori da tutto no guardi umanamente umanamente io gli auguro tutta la fortuna possibile umana personale perché non mi sento assolutamente di come dire di gioire se ha delle difficoltà io mi auguro che possa trovare una prospettiva di vita personale lavorativa al più presto Presidente grazie di essere stato qua con noi vi aspettiamo tra qualche mese che facciamo il punto della situazione volentieri grazie buonasera